appena arrivati in vetta al monte siella al monte siella tra circa un'oretta forse un'oretta abbondante tramonterà il sole tutto campo imperatore meraviglioso sotto di noi qui c'è il monte tremoggia il monte camicia e di qua abbiamo tutta la valle diciamo di ascoli piceno il terramano ecco il tramonto comincia a arrivare l'ombra sulla triatico con tutto il mare atriatico dunque 20 appunto abbiamo detto al monte sella giù in fondo vado di siella sotto di noi ricopiano e il vado di sole montesiella campo imperatore al tramonto